Come ho fatto a convincere Zero Calcare a disegnarmi un Bombastic Side Eye? Sono ovviamente partita facendogli vedere questo cavallo da 28 milioni di visualizzazioni e lui ha gradito molto. I cani sono fantastici, hanno questa espressività? Mi è un momento piangere perché posso piangere l'ex mio, quindi... Io non sarò mai capace di fanno, guardate qui. Ovviamente in tre minuti ha tirato fuori questo capolavoro. Bombastic Side Eye. Criminal Offensive Side Eye.